Il figlio di Bella Bella, Michele Bruni, era un criminale di notevolissimo spessore, che si è reso protagonista di una serie di fatti di sangue importanti, ma che era riuscito a costruire una rete assolutamente forte, sia sul territorio che fuori. Con la sua morte si apre una nuova disputa per la successione, a rivendicare il trono e il suo fratello Luca Bruni, ma anche qui i suoi propositi vengono stroncati nel sangue. Bruni viene attirato in un tranello da alcuni suoi fedelissimi, o meglio persone che lui riteneva tale, viene ucciso e il suo corpo viene sepolto. Con l'omicidio Bruni si stringe il patto di ferro tra gli italiani e gli zingheri, nel momento in cui nasce la Confederazione Rango Zingheri. I resti vedranno la luce solo due anni più tardi, siamo già nel 2014, grazie alle indicazioni di uno che ha partecipato alla sua esecuzione, Adolfo Foggetti, che si pente e porta i carabinieri sul luogo dove c'è la tomba di Luca Bruni. Si apre una nuova stagione, che è quella dei nuovi pentiti.